gentili telespettatori buona giornata la notizia è di ieri sera verso le 23 mezzanotte che arriva un nuovo allarme dalla cina dopo il covid ci sono nuovamente strane polmoniti polmoniti misteriosi c'è un boom di casi e ospedali addirittura dicono ospedali intasati soprattutto a pechino e lia lia o ning facciamo scherzi e non facciamo scherzi che io ho già prenotato aereo alberghi per giugno dice un po in anticipo e sì se noi i prezzi mi raddoppiano quindi ho già programmato un giro di un mese in italia un mese proprio 30 giorni non facciamo scherzi perché diventa una bestia non facciamo scherzi perché veramente questa volta perdo la pazienza dice che fai niente che devo fa che devo fa niente speriamo sia sia una bolla di sapone e così dalla cina col furgone no dalla cina col furore dalla cina un allarme sanitario a quattro anni dalla pandemia covid in molte metropoli cinesi è scattata l'emergenza sanitaria per una misteriosa polmonite che colpisce soprattutto i minori il primo alert è arrivato da promed un sistema di sorveglianza accessibile al pubblico che monitora le epidemie di malattie umane animali in tutto il mondo che ha messo una notifica parlando di polmonite non diagnosticata negli nei minori con fembre altra e tracce nei polmoni ma senza tosse a fine 2019 era stata proprio questa organizzazione promed a dare il primo allarme su un virus respiratorio sconosciuto poi tristemente conosciuto come sars cov 2 le metropoli più colpite sono quelle più grandi pechino e liaoning colpite da questa epidemia di polmonite che avrebbe come sintomi la febbre alta e noduli polmonari gli ospedali addirittura sono intasati e ci sarebbero molte classi nelle scuole proprio con più nessun quasi nessun bambino perché sono tutti ricoverati un noto epidemiologo eric feigl ding ha seguito questa nuova pandemia cioè non ha seguito la pandemia del covid e ha rilanciato l'allarme con diversi post e video che raccontano la situazione una prima ipotesi secondo questo famoso epidemiologo statunitense è che questi casi siano riconducibili al micoplasma pneumoniae un batterio responsabile di patologie che interessano soprattutto l'apparato respiratorio potrebbe trattarsi di polmonite ambulante che secondo alcune fonti sarebbe in aumento in cina mascherine flebo ricoveri lo scienziato alla fine fa un commento poco scientifico e dice che razza di mondo e quando ci si avvicina ai 10 miliardi di individui che inquinano e ne combinano di tutti i colori si lanciano i missili eccetera eccetera certo che l'abitante principale del pianeta terra e non è propriamente un un abitante molto a modo diciamo diciamo così il sistema sanitario cinese di nuovo a dura prova alcuni esperti fanno notare che potrebbe essere la conseguenza della revoca delle restrizioni post pandemia in cina lo stesso è accaduto in europa e negli stati uniti lo scorso inverno con un'epidemia di caro causi di virus respiratorio sinciziale nei bambini una stagione influenzale 2023 2022 2023 più pesante i sintomi di sta polmonite ambulante che generalmente colpisce i bambini piccoli includono mal di gola affaticamento e tosse persistente che può durare settimane o mesi nei casi più gravi può eventualmente degenerare in polmonite dopo che sono state revocate tutte le misure anti covid in cina e la si tratta della prima ondata di infezioni di micoplasma pneumoniae da quando appunto c'è stato il covid l'ondata è apparsa particolarmente aggressivo dopo la festa nazionale all'inizio di ottobre rispetto agli anni precedenti abbiamo riscontrato più pazienti con infezioni miste resistenza ai farmaci e polmonite lobare allora speriamo che non ci sia niente di niente di che perché a parte la vacanza che ho prenotato è gran parte l'ho anche pagata come ecco pagata a parte questo non vorrei trovarmi di nuovo chiuso in casa a guardar per aria senza poter uscire di nuovo con la mascherina e tre metri da un'altra persona e il tampone e di qua e di là il vaccino e moderna e pfizer e cipalipa calipa e cansino insomma beh non possiamo pensare che quella del covid sia l'ultima epidemia dell'umanità ovviamente che no ce ne saranno altre magari più ravvicinate proprio perché siamo troppi sul pianeta e c'è una globalizzazione tale che se un'epidemia comincia a 20.000 chilometri di distanza in pochi giorni con l'aereo arriva dappertutto ecco speriamo di non dover tornare indietro nel tempo perché è stata un'esperienza abbastanza deprimente perché ha chiuso le persone in casa per moltissimi mesi c'è stata una vita sospesa per molti mesi bambini a casa senza poter andare a scuola e guardate che socializzare per i bambini a scuola è importante è come se a noi avessero tolto non so la la terza e la quarta e la quinta elementare cancellati per sempre mai vissuti e bisogna viverli quei momenti lì come direbbe bersani quei momenti lì quella roba lì grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie ciao 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 ciao